Se nonostante una trattativa difficilissima la partita è ancora aperta, se l'accordo finale è stato posticipato auspicabilmente a una nuova riunione dell'Ecofin da convocarsi nei giorni successivi al Consiglio europeo con il mandato di chiudere entro l'anno, è perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione del Governo italiano è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare. Perché l'Italia, a dispetto del racconto che spesso si fa, è una nazione virtuosa. Lo testimonia innanzitutto l'avanzo primario che, fatta eccezione per il periodo Covid e post-Covid, ha quasi costantemente registrato un incremento dai primi anni 90 ad oggi e dal 2024 noi torneremo in avanzo primario. lo testimonia il nostro sistema pensionistico, che è comunque tra i più equilibrati d'Europa. Lo testimoniano le misure adottate da questo Governo. Negli ultimi mesi noi siamo intervenuti per ridurre le spese improduttive, abbiamo avviato un'azione di razionalizzazione della spesa che riguarda il settore pubblico, abbiamo dato vita a un piano di privatizzazioni che però, sia chiaro, con questo Governo mai diventeranno delle svendite e il tutto accompagnato da dati macroeconomici stabili, soddisfacenti, da un mercato del lavoro che sta facendo registrare risultati record sul fronte dell'occupazione e particolarmente sul fronte dell'occupazione stabile, da una borsa che nel 2023 sta facendo registrare la migliore performance d'Europa, da uno spread sotto controllo, da agenzie di rating notoriamente poco accomodanti che danno fiducia all'economia italiana.